Si terrà questa sera l'atteso concerto che vedrà protagonista la cantante Giussi Ferreri, che si svolgerà nel comune di Santa Marina, nella location mozzafiato di Piazza del Popolo, sul porto della frazione Policastro Bussentino, nell'ambito della seconda edizione di Cilento Experience, un territorio da vivere. Appuntamento dunque questa sera, dove la cantante Giussi Ferreri presenterà live i suoi più grandi successi. Questo grande evento, con il concerto in Piazza del Popolo, a porto di Policastro Bussentino, una grande artista, Giussi Ferreri, quindi un grande evento, una manifestazione artistica di rilevanza nazionale e internazionale. Colgo l'occasione di invitare tutti i cittadini del Comprinzor, ma all'intera provincia di Sanremo, ma all'intera Italia, di partecipare a questo evento che l'incresso è gratuito. Colgo l'occasione ovviamente di ringraziare la Regione Campanile, in modo particolare l'assessore Matera, del turismo che ha finanziato anche al comune di Santa Marina un evento importante che è la seconda edizione Cilento Experience, un evento che promuove l'arte, ma contemporaneamente promuove il territorio, perché questa nostra terra ha bisogno di promozione, perché è una terra meravigliosa dove ci sono opportunità di realizzare infrastrutture e turismo affinché possiamo realizzare in contemporanea poste di lavoro e far sì che i nostri figli possano restare in questa terra del sud. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è di offrire delle giornate e delle serate, perché sabato ci sarà a Lucchè e venerdì ci sarà la Notte Bianca, tre giorni di musica, di arte, di intrattenimento, di socializzazione, di promozione di un territorio meraviglioso che è il Golfo di Policastre. Quindi abbiamo organizzato in questo modo, l'ingresso è completamente gratuito, il parcheggio sarà realizzato dal porto fino al fiume, tutta la fascia costiera dove c'è la possibilità di parcheggiare. Ci saranno due ingresse, tutte e due sulla nazionale, uno prima del bivio della superstrada, quindi in corrispondenza di Frienne e Magnenno, chi conosce il territorio, però ci saranno le postazioni dei vigili e personali della protezione civile e volontari che controlleranno, daranno informazione e garantiranno la sicurezza, la fluidità del traffico e quindi tutta quella zona sarà destinata a parcheggio e si pagherà soltanto 3 euro per l'intera giornata, come si paga normalmente per chi viene a Policasto anche a villeggiare e andare a mare. Quindi con solo 3 euro a macchina ci è garantito il parcheggio e da lì a pochi metri, a 200 metri, massimo 400 metri a piedi, si arriverà in piazza del popolo dove si terrà il concerto. Quindi sicuramente ci saranno diversi punti dove troverete vigili, protezione civile, volontariati che hanno una casacca apposa, quindi da lontano si vedranno, che garantiranno chiaramente l'assistenza a tutti quanti.